Preparare l'Italia a questo punto è anche un po' facile, diciamo, nel senso che i ragazzi sono stati fermi per un po' e c'è un entusiasmo enorme, per quello hanno tanto voglia di ripartire, di entrare in campo e di riprendere lo sport che loro amano. Per noi il benessere dei ragazzi sono molto importante e corriamo loro in un modo che loro possano dare sempre il loro miglior quando sono in campo, per quello abbiamo un'applicazione ogni mattina quando svegliano loro mettono i loro dati dentro, come sentono, come hanno dormito e anche come sentono l'allenamento il giorno prima che noi avevamo. E poi ovviamente in campo è importante per noi per prendere sosta ogni tanto, per riprendere un attimo il fiato, ovviamente ci sono... il lavoro è molto intenso e cerchiamo di dare a loro l'opportunità di recuperare. Intorno alla squadra c'è una staff piena di esperienze, piena di capabilità di veramente aiutare i ragazzi per andare in campo, per dare il loro miglior. Preparatori atletici diversi, allenatori, tutte persone che contribuono sulla nostra squadra per dare alle ragazze la migliore opportunità di eser performante.